Salve a tutti, mi chiamo Ebbe Forcina e vengo da un paese che è Sezze in provincia di Latina e sono arrivata qui in Moldavia per esaudire un mio desiderio che ho sempre avuto per me e per i miei denti, un fattore molto dolente che parte dall'adolescenza. Sono arrivata con una paradontite e il mio problema era questo, avevo moltissimi mal di testa, mal di testa fortissimi proprio e erano dovuti ai denti, avevo sei denti che si muovevano e quindi sono venuta alla conclusione che dovevo fare qualcosa per me, per la mia salute perché è importante. I denti sono la prima cosa che noi dovremmo tutti salvaguardare, salvaguardare la nostra salute, questa è la nostra salute e quindi io ho finito il mio percorso, sono felicissima di tutto quello che ho fatto, di tutte le persone fantastiche che ho incontrato, dalla logistica alla clinica, dal primo all'ultimo e tutti i miei compiagni di viaggio che io ho incontrato in questi miei tre viaggi. Che dire, sono soddisfatta, felice e penso che le persone che mi vedranno lo saranno ancor di più, ancor di più. Allora io ho fatto una superior sopra e una premium sotto. Quando ho messo i denti è stata una sensazione, la prima cosa che mi sono domandata quando le ho messi, perché ancora non mi vedevo, ho detto ma come saranno? Saranno belli? Sarò contenta? Starò bene? Cambierà la bocca, il sorriso, l'aspetto? Erano queste le domande. Poi quando abbiamo finito mi sono guardata e dirò sono felice. È importante avere una bocca sana tantissimo. Se stai bene allora sorridi e sorridi proprio tanto. Io rido sempre. Adesso ancora non realizzo, cioè al momento ancora non realizzo, però non mi sento cambiata perché io sono così, cioè io è così. Il mio aspetto forse cambierà in seguito, forse sarò più sicura, più sicura di me, capito? Quindi non, come dicevo prima, non nasconderò più il sorriso e allora riderò e rido ancora, eh? Tanto, 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 tanto. Rilassata, in modo proprio senza coprire nulla del Dio Dio, questo non lo posso fare perché la mia bocca non va bene, non sto bene. Essere insicura, quella per una donna è una cosa bruttissima, bruttissima. Ma per tutti credo, non solo per la donna, anche per il mondo. È stata per me un'esperienza molto positiva, molto positiva perché, le ripeto, ho incontrato persone veramente accoglienti, anche non conoscendoti, ma non perché lo devono, perché lo fanno, perché è il loro lavoro, che no. Sono persone veramente in gamba, persone che si sente proprio, insomma, che ti accolgono volentieri. E io questa esperienza la dico a tutti di farla con tranquillità, anche se non conoscete, non sapete, non pensate nulla, da dire, ah, ma dove vai, che fai, ma chissà quale materiali adoperano, chissà, perché è questo quello che si dice, si fa cattiva pubblicità. Fidatevi, 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 perché ne vale veramente la pena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.